Sala Consilina, Bando, Nuova Scuola Media, Trinità, vittoria dell'amministrazione comunale e contiene anche l'adeguamento del finanziamento. Vallo della Lucania, rivendita GPL senza prescritte autorizzazioni sequestrate dalle fiamme gialle 80 bombole in un'attività commerciale cilentana. Comunità Montana, l'8 marzo, a presentazione del progetto Informa Giovani Diffuso, la rete che piace ai ragazzi. Montesano sulla Marcellana, il Borgo, candidato al concorso Borgo dei Borghi in Onda sul Re 3, domani alle 14 nel Tg Itinerante. Sant'Arsenio, ieri mattina al Sacco, la presentazione del libro Cent'anni di opere in cento e più immagini a cura di Emilio Satti. Ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione vittoria per il Comune di Sala Consilina nel ricorso presentato a seguito della revoca del finanziamento per la realizzazione della nuova scuola media a Trinità. Pubblicato il bando dopo il riconoscimento da parte della giustizia amministrativa anche dell'adeguamento del finanziamento. Vediamo il servizio. Entro 12 mesi a Sala Consilina sorgerà la nuova scuola media che negli anni è stata purtroppo oggetto di una lunga querelle giudiziaria terminata con la vittoria dell'amministrazione comunale salese guidata dal sindaco Francesco Cavallone. 4,5 milioni di euro a disposizione per la realizzazione della nuova scuola media a Trinità per la quale era stato preventivato un costo di circa 3 milioni e 200 mila euro che a causa del lungo tempo trascorso e dell'aumento delle materie prime e dei costi dovuti alle difficoltà provocate dal Covid sono ora incrementati. Un incremento che la giustizia amministrativa ha riconosciuto all'amministrazione comunale e pertanto è stato riconosciuto anche l'adeguamento dei prezzi ai tempi attuali e dunque del finanziamento. Una lunga battaglia partita nel 2018 quando il finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro per il rifacimento della scuola media di località Trinità venne revocato. Decisione a cui si oppose con tenacia l'amministrazione comunale salese ricorrendo alla giustizia amministrativa che ha dato ragione ricorrente. L'amministrazione comunale, dichiara il sindaco Francesco Cavallone, alla fine grazie alla sua testardaggine l'ha spuntata dopo una battaglia giudiziaria iniziata nel 2018 quando c'era stata la revoca del finanziamento di 3,2 milioni di euro già assegnato. In quell'occasione, continua, il Comune aveva impugnato il provvedimento di revoca davanti alla giustizia amministrativa ed ha avuto ragione non solo per quanto riguarda l'illegittima revoca del contributo ma anche per l'adeguamento dei prezzi dovuto all'aumento degli stessi a causa degli anni trascorsi e all'incremento conseguente anche al Covid. Riconosciuto dunque l'adeguamento dei costi con un incremento di 1 milione e 300 mila euro sul finanziamento inizialmente riconosciuto, arrivando a 4 milioni e 500 mila euro la somma a disposizione per la realizzazione della nuova scuola media per la quale è stato pubblicato il bando per i lavori che dovranno essere ultimati entro 12 mesi. Si tratta di opere che prevedono l'abbattimento dell'attuale struttura ubicata in località Trinità con il relativo rifacimento. Siamo estremamente soddisfatti, continua Cavallone, per essere riusciti a far valere le nostre ragioni perché finalmente verrà restituito alla comunità di Trinità un plesso scolastico estremamente sicuro e perché verrà abbattuto e ricostruito. Con la scuola di Trinità, conclude Francesco Cavallone, si sta arrivando al quasi totale adeguamento delle strutture scolastiche di Sala Consilina. Inoltre verrà completata la scuola di Viscigliete con la costruzione del refettorio scolastico. Un giovane di 24 anni, Dylan Maratea, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Battipaia. Il giovane in sella al proprio scooter in compagnia di un coetaneo stava percorrendo via delle industrie quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro lo spartitraffico. Sul posto immediati soccorsi dei sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ferito al braccio l'altro ragazzo che era in sella al mezzo. Su anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Andiamo avanti. La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania nei giorni scorsi ha individuato e sequestrato un'ottantina di bombole di gas detenute illecitamente in un negozio del Cilento. Un'operazione che rientra nell'ambito della più vasta attività di indagine volta al contrasto delle frodi sulle accise. Ottanta bombole di gas illecitamente detenute presso un esercizio commerciale del Cilento sono state poste sotto sequestro dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nell'ambito di apposite attività di indagine mirate al contrasto delle frodi di accise. A seguito di tali attività messe in campo dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle nei giorni scorsi sono state individuate e sequestrate un'ottantina di bombole di gas detenute illecitamente e destinate alla commercializzazione. Ad operare i finanzieri di Vallo della Lucania che nel corso di un apposito servizio mirato alle verifiche su attività dedicate alla distribuzione e vendita di GPL in recipienti hanno notato all'esterno di un fabbricato di tipo rurale più di 50 bombole di combustibile. A seguito riscontri eseguiti sul posto le Fiamme Gialle hanno identificato il proprietario del terreno risultato essere anche titolare di un negozio di generi alimentari dove i militari, proseguendo nell'attività di controllo hanno rinvenuto all'interno di un locale di 10 metri quadri circa un secondo deposito contenente ulteriori 29 bombole di GPL. A seguito accertamento dell'assenza delle prescritte autorizzazioni necessarie per la detenzione del prodotto le Fiamme Gialle e Vallesi hanno proceduto al sequestro della merce segnalando nel contempo il soggetto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per il reato di omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente e per l'esercizio di attività di rivendita e deposito di GPL in assenza del prescritto certificato prevenzione incendi anche se nessun giudizio di colpevolezza può essere espresso fin tanto che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna. Il contrasto agli illeciti in materia di accise ed imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi spiegano dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Salerno rappresenta una delle priorità della Guardia di Finanza volta alla tutela sia delle entrate erariali che degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole cercando soprattutto di disincentivare i consumatori dall'acquisto di prodotti illecitamente posti in commercio e rischiosi per l'incolumità pubblica. Una nuova iniziativa che parte dalla formazione per coinvolgere i giovani nella costruzione del futuro parte dalla comunità montana Vallo di Viano su idea dell'assessore Antonio Pagliarulo il progetto Informa Giovani diffusa la rete che piace ai ragazzi. Giovani per coinvolgere i giovani e costruire insieme il futuro parte dalla comunità montana Vallo di Diano una nuova iniziativa che punta ad avvicinare a coinvolgere i giovani in un progetto di rilancio del territorio. L'idea, nata dall'iniziativa dell'assessore comunitario Antonio Pagliarulo sarà presentata venerdì 8 marzo in conferenza stampa nel corso del quale sarà illustrato nel dettaglio il progetto e gli obiettivi che si intendono per seguire. Il progetto denominato Informa Giovani diffuso la rete che piace ai ragazzi è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con Moby Dick e TS. L'iniziativa vuole creare uno sportello informativo in cui impiegare i giovani che a loro volta cercheranno di coinvolgere altri giovani in iniziative di interesse sociale non solo. Questa iniziativa, spiega l'assessore Antonio Pagliarulo è nata dall'idea di creare un format che possa procedere in un percorso parallelo a quello che, come ente montano abbiamo intrapreso attraverso la realizzazione dei progetti di strategia delle aree interne. L'obiettivo che ci siamo posti prosegue Pagliarulo è quello di attrarre i giovani motivarli ed orientarli e si sposa perfettamente con quanto già è in corso. Venerdì 8 marzo alle ore 17 la presentazione del programma progettuale che prevede la formazione attraverso 20 lezioni frontali di 6 risorse che si terrà nei mesi di marzo aprile e maggio presso la sede della comunità montana. Tali risorse costituiranno lo sportello informativo per i giovani del territorio con attività di front e back office. L'ufficio informa Giovani Salerno gestito da Moby Dick e TS se storico ente del terzo settore specializzato in politiche giovanili e mobilità europea sarà il punto di riferimento quale best practices del settore. Obiettivi principali del progetto incoraggiare i giovani ad essere cittadini attivi valorizzare lo spirito di comunità promuovere l'importanza della territorialità acquistare nuove tecniche di promozione del territorio. parteciperanno alla conferenza stampa di venerdì 8 marzo Francesco Cavallone presidente della comunità montana Vallo di Diano per i saluti istituzionali a seguire Francesco Piemonte presidente di Moby Dick e TS Francesco Barbarito responsabile in forma Giovani Salerno infine nell'evento moderato da Maria Carla Ciancio direttrice delle politiche giovanili.com ci saranno delle testimonianze di enti del terzo settore e delle imprese di enti di formazione e a mercato San Severino i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa su richiesta della procura di nocere inferiore dal GIP nei confronti di un 43enne indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi nei riguardi dell'ex convivente le indagini avviate dopo la denuncia della donna hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 43enne e andiamo avanti a Castel San Giorgio i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico emessa su richiesta della procura di nocere inferiore dal GIP nei confronti di un 49enne indagato per atti persecutori nei riguardi del fratello e del suo nucleo familiare le indagini hanno permesso ai carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell'indagato che avrebbe perseguitato i familiari per ragioni economiche e ancora manifesti contro il governo nazionale con il logo istituzionale della regione campania l'iniziativa non va giù ai partiti di destra ora interviene anche il senatore di fratelli d'italia Antonio Iannone manifesti contro il governo nazionale con il logo istituzionale della regione campania sono affissi in diverse città e l'iniziativa non va giù ai partiti di destra che puntano il dito contro De Luca accusato di fare politica con soldi pubblici a scagliarsi contro il presidente che da settimane in aperta critica con la premier Meloni sono state prima le forze d'opposizione in campania ora interviene anche il senatore di fratelli d'italia Antonio Iannone Vincenzo De Luca dice continua nel totale disprezzo delle istituzioni ad utilizzare le risorse della regione campania e quindi di tutti i cittadini per i suoi interessi politici è stato diffuso l'ennesimo manifesto il secondo nel quale con tanto di logo della regione campania attacca il governo Meloni diffondendo le ennesime falsità è un comportamento inaccettabile che conferma l'arroganza di De Luca che sottrae risorse ai campani per finanziare la sua personale e discutibile attività politica infatti come la regione campania stessa ha confermato questi manifesti sono realizzati utilizzando le risorse dedicate alla comunicazione istituzionale un vero e proprio abuso per questa ragione ho presentato un'interrogazione al ministro dell'interno per chiedere se sia lecito che De Luca utilizzi il logo istituzionale della regione campania e delle relative risorse per propaganda politica ma soprattutto chiederò che i consiglieri regionali che hanno già presentato un esposto alla corte dei conti per il precedente manifesto denunciano anche questa nuova affissione confidiamo conclude il senatore Iannone che la magistratura contabile faccia giustizia mettendo fine a questo sperpero di risorse pubbliche Riprenderanno l'11 luglio i voli dall'aeroporto Costa Damalfi di Salerno tante le novità elencate da Luca Cascone consigliere regionale della campania e presidente della quarta commissione consigliare tra cui il bando per la biglietteria il bar i lavori per la pista quasi conclusi e a breve quelli per il nuovo termine al passeggeri e per il collegamento con la metropolitana Volotea EasyJet speriamo presto Ryanair il bando per la biglietteria il bar i lavori per la pista quasi conclusi a breve quelli per il nuovo termine al passeggeri e per il collegamento con la metropolitana li elenca tutti Luca Cascone che commenta così le ultime novità che riguardano la ripresa dei voli a partire dall'11 luglio 2024 dall'aeroporto Costa Damalfi di Salerno aggiungendo poi una stoccatina chi continua a criticare queste notizie dividono l'Italia fa notare Cascone tra chi lavora per raggiungere i risultati e chi critica pensando sempre che si tratti di annunci farlocchi purtroppo la tormentata e lunga storia del decollo dell'aeroporto di Salerno è costellata di go e stop che in qualche modo hanno nutrito la diffidenza di chi non ci crederà fin quando non vedrà effettivamente volare gli aerei per un periodo di tempo ragionevole in tanti ricorderanno per esempio voli di linea che iniziarono nel 2008 la compagnia vola Salerno Erdolomiti un breve passaggio di Alitalia tante altre piccole compagnie la vera svolta c'è stata nel 2019 quando l'attuale gestore di Capodichino Gesac inglobò lo scalo salernitano su sollecitazione della regione Campania poi l'avvio dei lavori per l'allungamento della pista oggi è il giorno dell'entusiasmo per l'annuncio dopo volotea anche di Isiget di collegamenti con il Costa da Malfi a partire da luglio la notizia è stata accolta con entusiasmo anche da Antonio Ilardi presidente di Federalberghi Salerno ora non si perda più un giorno serve un piano di marketing con iniziative istituzionali in tutte le località servite dallo scalo Federalberghi ha aggiunto Ilardi e pronta a fare la sua parte bene ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità restate con noi ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale due giorni di promozione del borgo di Montesano sulla Marzellana candidato per la campagna al concorso Il Borgo dei Borghi 2024 nei giorni scorsi il giornalista Rino Genovese è stato a Montesano per documentarne le bellezze le bontà la storia e la cultura vediamo questa mattina nel corso della trasmissione di Rai 3 Campania Buongiorno Regione Rino Genovese giornalista di Rai 3 ha presentato la prossima puntata del Tg itinerante in onda domani 3 marzo nel corso del Tg delle ore 14 parte così da questo breve ma significativo servizio del giornalista Rai il viaggio alla scoperta del Borgo Valdianese che è stato selezionato per rappresentare la regione Campania nel concorso Il Borgo dei Borghi 2024 un appuntamento annuale proposto nella trasmissione Chili Mangiaro che vuole mettere in risalto la bellezza di un'altra Italia ossia quello dei piccoli centri storici ricchi di tradizione cultura storia e che racconta ancora un modo di vivere fatto di piccole ma essenziali quotidianità nel rispetto di quel passato mai dimenticato nei giorni scorsi Rino Genovese ha raggiunto il Borgo di Montesano per far conoscere le sue bellezze e le sue eccellenze a tutta la Campania e allo stesso tempo invitare tutti a sostenere Montesano al concorso Il Borgo dei Borghi possiamo dire che siamo fortunati abitiamo in un paradiso terrestre fatto di tanti angoli stupefacenti che lo compongono uno di questi è sicuramente Montesano sulla Marcellana mi fa piacere che la Rai 3 con Chili Manciaro abbia scelto Montesano in rappresentanza della Campania nella gara nazionale dei Borghi più belli d'Italia noi proveremo a far capire ai nostri spettatori perché Montesano è davvero uno dei Borghi più belli d'Italia le immagini parleranno da sole ma io mi sto emozionando stando a Montesano perché sto scoprendo davvero una meraviglia che non conoscevo un patrimonio paesaggistico ambientale storico unico per la nostra regione poi guardate che lo spettacolo di questa chiesa con queste guglie bellissime ma andremo tra poco anche nella piazza più alta più antropizzata e più alta della provincia di Salerno scenderemo nelle 103 sorgenti termali parleremo di storia di arte di zampogna insomma davvero una meraviglia che merita di essere votata in questa gara nazionale appuntamento dunque a domani sabato 3 marzo alle ore 14 su Rai 3 per seguire il Tg itinerante da Montesano sulla Marcellana e per meglio conoscere le sue peculiarità e ieri mattina al Sacco di Sant'Arsenio si è svolta la presentazione del libro Cent'anni di opere in cento e più immagini a cura di Emilio Sarli direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica a Vallo di Viano e Tanagro vediamo un interessante appuntamento culturale ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio che ieri mattina hanno preso parte alla presentazione del libro Cent'anni di opere in cento e più immagini a cura di Emilio Sarli direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica a Vallo di Diano e Tanagro l'evento si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto di Istruzione Sacco e ha visto coinvolti gli studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi ITE-IPSEOA il libro fotografico racconta attraverso le immagini la centenaria vicenda istituzionale del Consorzio di Bonifica a Vallo di Diano e Tanagro a partire dalle sistemazioni idrauliche degli anni 30 fino alle più recenti opere di Bonifica e di irrigazione l'incontro oltre al curatore ha visto la partecipazione anche di Domenico D'Amato presidente della cooperativa sociale l'opera di un altro e di Beniamino Curcio presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro a testimonianza fanno sapere dalla scuola di una identità culturale di un territorio che si districa tra la montagna la pianura e le acque di cui i nostri giovani devono divenire custodi e promotori i saluti invece sono stati affidati alla professoressa Carmela Taglianetti dirigente scolastica dell'Istituto Sacco una pubblicazione importante dunque con la quale il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro si appresta a celebrare i 100 anni di vita raccogliendone la storia e le attività messe in campo per favorire lo sviluppo di un territorio a prevalente vocazione agricola al termine della presentazione di ieri mattina le copie del libro sono state distribuite agli studenti ai docenti e agli ospiti presenti fine settimana dedicato allo sport e all'inclusione a San Rufo presso il centro sportivo meridionale domani e domenica si terrà l'evento Sporting Cup con partner la Banca Montepruno promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversità attraverso lo sport è questo l'obiettivo dell'evento Sporting Cup che vede come partner la Banca Montepruno e che si terrà domani e domenica 3 marzo presso il centro sportivo meridionale di San Rufo il torneo organizzato con piccoli amici e primi calci sarà dedicato al rapporto tra sport e inclusione sociale con particolare attenzione al ruolo che il calcio e il futsal possono avere nel favorire l'integrazione di persone con disabilità e diversa provenienza grazie alla collaborazione con la Banca Montepruno sarà possibile mettere in evidenza i numerosi benefici che lo sport può apportare nella promozione di valori come il fair play la solidarietà e l'uguaglianza Sporting Cup sarà anche un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di promuovere uno sport accessibile a tutti capace di superare le barriere e di unire le persone attraverso la passione per il gioco e la condivisione di valori universali un evento importante che è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Sala Cultura della BCC Montepruno a Sant'Arsenio diversi gli interventi registrati moderati dalla giornalista Pierluigi Paciello sono intervenuti il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese il sindaco di Polla nonché presidente della fondazione Sport e Territorio Massimo Loviso il sindaco di Roscigno Pino Palmieri sono poi intervenuti il responsabile della cooperativa Terzio Millennium Antonello Calandriello Salvatore Camporeale responsabile del settore giovanile dello Sporting Sala Consilina e il consigliere regionale Pellegrino tutti i relatori con i loro interventi hanno condiviso le proprie esperienze e progetti in questo ambito dimostrando che lo sport può essere un potente strumento di inclusione e coesione sociale e con questo servizio termina questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per essere stati con noi a no Grazie a tutti.